Piano piano stiamo conoscendo tutti gli ospiti di questa nave, oggi è il tuo turno, naturalmente tutti i tifosi ti hanno applaudito, appena hanno sentito il tuo nome, è una vacanza particolare, primo perché è piena di tifosi nell'Azzurri ed è anche piena di Inter Club, secondo motivo c'è una parte attiva dei tifosi qui in nave, tu rappresenti una parte di loro con gran piacere anche loro. Sì, mi fa piacere trovare tanti tifosi perché quando giocavo ero abituato, adesso dopo tanti anni non sono più abituato, però perciò fa più piacere adesso quasi che allora perché questo esternare, questo calore nei miei confronti, come ti ripeto, mi fa piacere. Com'è dall'altra parte avere anche Bellugi? Vabbè con Bellugi poi Mauro è un po' più giovane di me, abbiamo giocato assieme, comunque lui è un ragazzo simpatico, ha uno spasso stargli assieme, la giornata con lui non è mai triste sotto certi aspetti, non ci si annoia mai. Per te è importante lottare, per la Guarnese è molto importante per te, l'hai detto anche prima qui a teatro con il pubblico davanti, come lo è stato nella tua storia? Sì, come carattere ero un sanguigno in campo, lottavo, perdere penso che non piaccia a nessuno, in particolare a me non piaceva assolutamente, cercavo in tutti i modi di raddrizzare le partite che andavano male col carattere e con la tenacia. Certe volte, tante volte ci sono riuscito, tante volte no, però nel calcio quando si gioca si può vincere e si può perdere. Questo è importante naturalmente, l'ultima domanda abbiamo visto vedere delle immagini che riguardavano sia te sia Mauro Bellugi qui di fronte a tutto il pubblico, un pubblico emozionatissimo, ma anche voi sul palco eravate in qualche modo un po' emozionati a rivederle. Sì, perché era tutto in diretta, non sapevamo nemmeno le domande che ci facevano, comunque l'esperienza fa grado e logicamente abbiamo risposto a tutte le domande, anche perché si tratta sempre di cose che abbiamo vissuto. L'ultima domanda è sulla nave, su questa esperienza molto particolare, vivere una settimana proprio al fianco dei tifosi in una nave grandissima come questa, com'è? È la prima esperienza che faccio in nave, certo che quando l'ho vista, quando sono arrivato ho visto questo po', questo è un grattacielo, ho detto, niente, siamo qui al teatro e se poi pensi che stai navigando verso la Grecia non senti niente, è una cosa incredibile, poi qui c'è tutto, stamattina ho girato la nave e non sono riuscito a capire a certo momento dove ero, allora poi sono ritornato sui miei passi, con il filo d'Ariana ho lasciato dei segnali e ho ritrovato la mia cabina. L'importante è ritrovarsi, come sempre, come nella vita, grazie mille. Prego, buonasera. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di... Grazie a tutti. Grazie a tutti.